La tragedia ha sfiorato questa notte sull'autostrada Firenze-Mare per un mezzo pesante che ha sbattuto contro il pilone di un cavalcavia perdendo due grossi blocchi di granito. L'incidente è avvenuto tra i caselli di Prato Ovest e Prato Est in direzione Firenze e ha comportato la chiusura dell'autostrada in entrambi i sensi di marcia. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità cittadina Prato, visto che il traffico è stato deviato sulla declassata. Anche il cavalcavia di Via dei Fossi è stato chiuso. Fortunatamente nessun altro mezzo è stato coinvolto. La polizia stradale ha però deciso di chiudere il tratto di autostrada, compreso tra i due caselli. Tra i primi a intervenire i vigili del fuoco di Prato, la cui caserma si trova in linea d'aria a poca distanza dal luogo dell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, i blocchi di marmo sarebbero caduti in quanto non bene agganciati al rimorchio. Quando quest'ultimo ha urtato il pilone del cavalcavia, quindi, si sono sganciati cadendo a terra. Il tratto dell'autostrada è stato riaperto poco dopo le nove, una volta ultimate le verifiche di stabilità del cavalcavia, per il quale, invece, i tempi di riapertura potrebbero essere più lunghi.